Buongiorno, sono Carlo Molon, l'executist chef di Sheraton Lake Como Hotel. Oggi vi prepareremo delle melanzane baby ripiene di carne di vitello, noci, zenzero e peperoncino per un aperitivo di San Valentino. Per prima cosa andiamo a prendere le melanzane e andiamo ad inciderle. Questa è una variazione di una ricetta libanese che si chiamano melanzane macbooks che ho mangiato durante i miei viaggi di lavoro all'estero. Carne di vitello, spicchietto d'aglio sempre in camicia. Lo zenzero, togliamo fine fine. peperoncino, noci, carne di vitello, pepe, e andiamo a svuotarle. La polpa adesso andiamo a tricarla e andiamo ad aggiungere al nostro ripieno. togliamo anche l'aglio che adesso e facciamo incorporare bene tutti gli ingredienti. Andiamo a riempirle. Andiamo a mettere nell'olio le nostre melanzane e ripieni delicatamente in modo che così non riesca il ripieno. e facendo un aperitivo lo serviamo in questo padellino. le nostre melanzane baby, un po' di peperoncino, mettiamo due pietre di fiori giallo che ci aiutano a dare un po' di colore. Ed ecco le nostre melanzane di San Valentino. Ed ecco le nostre melanzane di San Valentino. Grazie a tutti.